Per tutti gli eroi, siamo in ritardo! La mamma si arrabbierà se non saremo presenti al pasto delle cinque! Se andremo a tutto gas con il jet invisibile, arriveremo in tempo a Temischira! Esattamente dov'è il jet invisibile? È qui! Ora cerco il portellone! Il mio jet invisibile è sparito! Ehm, guarda lì! Oh! Il mio jet invisibile! Tieni questo! Ma che succede? Niente jet invisibile, solo un carroattrezzi molto visibile! Scusi! Super errore! Ho dimenticato dove l'ho parcheggiato! Tranquilla, ho chiamato i rinforzi! Squadra investigativa al completo! Beast Boy, segui questa traccia! Agli ordini! Va alla ricerca, Beast Boy! Ha trovato? Un semplice frisbee! Che cosa sono quelle espressioni accigliate? Inizia la testa della ricerca! Ho qualcosa che vi tirerà su di morale! Inchiostro che non macchia! Non è il momento di fare scherzi! Mi dispiace doverlo dire, ma non serve a fare scherzi! Serve a cercare il jet! Questa ricerca sta diventando noiosa! Qui c'è bisogno di qualcosa di più efficace! Diamoci dentro! L'hai trovato! Sì, ecco dove l'avevo parcheggiato! Oh, grazie, Harley! Andiamo, ragazze! Arriveremo prima che il banchetto finisca! Sempre se riesco a trovare le mie chiavi invisibili! Pau, e vai col picnic! Adoro fare i picnic! Non c'è niente di meglio che mangiare in mezzo alla natura! Amico, non sei un bravo serpente! Un serpente? Dobbiamo salvare queste persone! Al lavoro, supereroi! Un orso! Aiutatemi! Guardate! Un pelese gigante! Sta arrivando! Scaffa! Freccia tranquillamente! Buonanotte, bel pelosone! Sarà meglio tenersi alla larga da questa creatura! Oh, supereroi che mutano di forma! Che cos'altro si inventeranno? Le persone che erano nel parco sono al sicuro! Ma da dove arrivano questi animali? Dallo zoo, ovviamente! Lion Man! Ora aiuteremo Metropolis a entrare in contatto con il suo lato selvaggio! Perché non assecondi i tuoi istinti e ti unisce a me, Beast Boy! No! Non voglio! Non ti azzardare a toccare i miei amici o acconcerò la tua criniera a forza di pugni! No! Ti prego! Non avevo cattive intenzioni! Non è affatto sicuro lasciare che tutti quegli animali feroci girino liberi per la zia! E vai! Giochiamo al gatto e al pipistrello! Questo lo farà dormire finché l'unità crimini speciali non arriverà a prenderlo! Sì! Ottimo eroismo! E ora riportiamo tutti questi animali allo zoo! Venite con noi, amici animali! Ops! Accidenti! Che pasticcio! Vuoi sentire un indovinello? Cosa ottieni se un elefante si siede su un recinto? Un recinto nuovo! Starfire, raggiungi l'elefante e broccalo! Io lo affianco e tu entri in azione, bisboi! Ferma dove sei, bestiolina adorabilmente rugosa! Ciao, amico! Sei pronto a seguire il tuo capo? Lascia aperto! Eccoci qui, tesoro! Ah, direi che non era niente male per... Sono una volontaria di questo zoo! Mi chiamo Mary McCabe! Ora non c'è tempo per le chiacchiere! Abbiamo un mucchio di animali selvatici da riportare nelle gabbie! Voglio aiutarvi! Forza, vieni qui, bel micione! Adesso! Grazie per aver salvato la mia ticcia! Te l'ho detto che funzionava! Te la sei meritata, amico! Ok, te ne do un'altra! No, 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 no! Non devi dare da mangiare agli animali! Cattivone! Lontano da lei! Ti siamo davvero molto riconoscenti! Già! Hai proprio un mucchio di abilità, secondo me! Sono solo brava con gli animali! Abbiamo già chiamato l'unità crimini speciali! Presto arriveranno a prendere Lion Man! Oh, non c'è fretta! La scuola superiore per supereroi è lieta di annunciarvi l'eroe del mese! Beast Boy! Eh? Eh? Cosa? Sono io l'eroe del mese? Ah, sì! Grandioso! Beast Boy è un compagno straordinario! E vai! Baffinotto! Quando non fai il monello in giro è un ottimo amico! Non posso credere che nessuno ricordi che oggi è il mio compimese! Ho sentito bene! Qualcuno ha detto compimesi? L'hai ricordato! Potrebbe sembrare tenero il coccolone, ma a volte sa anche essere una bestia ferocissima! Perché non te la prendi con qualcuno della tua specie? Come festeggerai la nomina eroe del mese? Voglio solo rilassarmi! I sabati sono fatti per riposare! Beast Boy! L'eroe del mese!